Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Devo dire innanzitutto che quando noi ci poniamo, facciamo una riflessione sul perché pur nei momenti di difficoltà è necessario cercare di dare un sostegno all'editoria locale, la riflessione ci porta a dire perché l'editoria locale ha sicuramente una funzione sociale, ha una funzione pubblica, ha comunque un risvolto, un riverbero pubblico e dico questo perché il giornale locale è lo strumento non soltanto per far conoscere le notizie a a livello locale, cioè le notizie strettamente locali, ma è anche uno strumento straordinario per far arrivare ai cittadini le informazioni anche di carattere istituzionale, le informazioni che servono per quanto riguarda la vita della comunità e questo è il motivo che ha spinto la regione Piemonte a fare ogni sforzo, pur in un momento di difficoltà pazzesca che non si è mai presentata, per garantire determinate risorse. Le risorse di cui è la legge 18 e quindi 400 mila euro che sono stati stanziati, nei limiti delle possibilità, l'utilizzo dei giornali locali per la informazione istituzionale che fa la Giunta. Devo dire che poi il Piemonte è una realtà straordinaria, lo insegnate voi, perché in nessuna regione c'è una informazione così capillare, ci sono così tante testate e c'è una risposta anche in termini di lettori. Siamo una regione con 4 milioni e mezzo di abitanti circa, un po' meno, e abbiamo comunque una potenzialità dal punto di vista dei lettori di 2 milioni e mezzo da parte delle testate locali, cioè ci sono 2 milioni e mezzo di persone che sfogliano durante la settimana, sfogliano, leggono, comunque consultano i nostri giornali locali. Questo non succede nelle altre regioni. Da che cosa dipende? Dipende dalla storia della nostra stampa locale, sicuramente abbiamo una storia molto gloriosa, ma dipende anche dalla capacità dei nostri giornalisti, cioè della capacità sicuramente di raccontare uno spaccato della società piemontese e di informare tutti anche nei comuni più piccoli e nelle valli più sperdute, perché poi dobbiamo anche tener conto delle caratteristiche geografiche della nostra regione e della presenza su territori che hanno anche tra di loro, hanno anche una forte identità e quindi non sono facilmente omologabili. Pensiamo all'importanza che può avere l'informazione all'interno di una valle. Adesso per dire la Valsesia, l'identità che ha la Valsesia, ecco l'informazione locale è un'informazione valsesiana, non è una informazione regionale piuttosto che con altre dimensioni. Quindi abbiamo diverse realtà che hanno una identità molto marcata e questa identità viene tramandata e viene anche rafforzata dal ruolo della stampa locale. La riflessione che viene spontanea oggi come oggi, in un momento come questo, è la seguente. Ma che senso può avere, magari qualcuno dice, il giornale, la stampa locale nell'era di internet? Poi voi direte, o qualcuno dirà, beh ma noi ci stiamo adeguando perché il giornale cartaceo è soltanto, non dico residuale, perché teniamo conto che noi abbiamo anche una popolazione anziana e nell'anziano non è che prende il tablet e legge tutte le mattine il giornale e poi abbiamo anche un sistema di lettura della stampa locale che nei bar, nei luoghi pubblici e quindi che moltiplica poi la possibilità di consultazione. I giornali locali sono presenti su internet in varie forme e se ne discuterà nel convegno di oggi. Sicuramente l'uso di internet e l'essere collocati sulle piattaforme dovrà aumentare di molto nei prossimi anni perché questo è il futuro. Il senso è quello di avere le testate. C'è o non c'è per quanto riguarda il futuro? C'è assolutamente. Perché noi non dobbiamo confondere quelle che sono gli scritti che troviamo su internet o il internet come strumento di manifestazione, libera manifestazione del pensiero, libera purché rispetti ovviamente determinate regole, secondo me ci dovrebbe essere una legislazione organica che oggi non c'è per quanto riguarda la pubblicazione di articoli, di scritti, di pensieri, di notizie su internet tenendo conto dei profili che oggi viene ad avere internet. Ecco ma arrivo alla mia riflessione. L'articolo scritto da un giornalista sotto legida di una testata è una fonte qualificata e questo è il punto vero e cioè la qualificazione della fonte. Quando uno legge un articolo di un giornalista iscritto all'ordine dei giornalisti che lavora presso una testata deve avere la sicurezza di poter leggere qualcosa di qualificato, deve avere la sicurezza come io devo dire ce l'ha perché ho una grande stima di tutti voi di non avere a che fare con spazzatura perché su internet si trova spazzatura, tantissima spazzatura e questo è il ruolo del giornalista del futuro e non solo c'è spazio non solo c'è spazio ma è un ruolo necessario fondamentale giungo a dire e ve lo dico perché lo penso sempre più fondamentale ancora più importante rispetto al presente che si sta già modificando ma rispetto al passato ancora più importante e ancora più autorevole a cominciare dalle testate locali. Io vi ringrazio molto per l'invito e insomma per me è stata un'occasione di fare un discorso che aveva più il intervento, un saluto che aveva più il senso di una chiacchierata ma ci tenevo molto a essere presente.